Siamo al governo da 14 mesi, per almeno 10-11 mesi abbiamo lavorato offrendo all'Italia leggi che l'Italia aspettava da tanti anni, non vi nego, ma lo vedrete voi anche leggendo i giornali o guardando i telegiornali, che negli ultimi due o tre mesi qualcosa è cambiato e qualcosa si è rotto e quelli che erano i sì prima sono iniziati a diventare un bel po' di no e l'Italia con i no non va da nessuna parte, l'Italia ha bisogno di sì, ha bisogno di lavorare, di costruire, porti, aeroporti, sulla TAV, Ma se hai speso dei soldi per scavare un buco sotto la montagna per farci passare un treno e per togliere i tir dalle autostrade, secondo voi ha più senso spendere i soldi che ti mancano per finire il buco e farci passare i treni o per tornare indietro e riempire il buco e non farci passare i treni? Mi sembra evidente che gli italiani hanno bisogno di viaggiare spendendo meno e inquinando meno, punti di vista, punti di vista che non toglie quello, non so cosa abbia detto chi c'era prima di me, però...